Gentili telespettatori, buona giornata. Il quotidiano La Stampa vuole censurare Elio e le storie tese. Beh, Elio e le storie tese conosciamo tutti. C'erano dei dischi che avevano prodotto veramente simpatici. Nell'89, poi uno nel 92, con uno spirito comico scorretto, assolutamente politicamente scorretto, volgare, corrosivo, bene. Il gruppo Meneghino non ha resistito al richiamo della riunione. Lo chiamano il ritorno sgradito, quello appena partito nei teatri. E arrivano come da un altro mondo. Infatti loro avevano smesso quando c'era un altro mondo e ritornano in un mondo diverso. In un mondo diverso, un mondo migliore, dove crescere. Beh, un mondo migliore non credo proprio. A voi piace questo mondo attuale? Pieno di guerre, dove non c'è più sicurezza. Abbiamo imparato dal passato, adesso ci sono più guerre che nel passato. Il rischio di una guerra mondiale è altissimo. Una società ormai basata solo sui soldi e la visibilità. Perché tutto il resto, quello su cui si cimentava il nostro paese, dei capisaldi. Quando noi siamo nati c'era delle certezze. Tu andavi a scuola e c'era la religione, col crocifisso, l'ora di religione, la messa. E poi avevi la comunione, la cresima, battesimo, comunione, cresima. E poi c'era l'albero di Natale con il presepe, la festa della mamma, la festa del papà. E poi c'era la vacanza estiva, le feste di Natale, la Pasqua. C'erano tutte delle cose preimpostate dalla società. Preimpostate dalla società. Ma io vi dico che mi ci trovavo benissimo, insomma. Io mi trovavo benissimo con il Natale, la Pasqua, il presepe, l'albero di Natale, la festa della mamma, del papà, il crocifisso a scuola, l'ora di religione. In questo mondo precostruito per i nuovi nati io mi sono trovato benissimo. Certo oggi quel mondo è politicamente scorretto. Basta Natale, albero, presepe, che schifo. Ma come puoi pensare una roba del genere? Crocifisso, via. E' la cancellazione di tutta la tradizione nella quale io sono cresciuto. Che io sto trasmettendo ancora ai miei figli. Io ai miei figli a Pasqua gli vado a comprare l'uovo. A Natale gli faccio il presepe, l'albero. Andiamo a messa. Ogni tanto, non sempre. E quindi ho il crocifisso anche a casa. Adesso qua non ve lo faccio vedere perché non è qui in questa stanza, ma ce l'ho. Ecco, io continuo con i miei figli, con le tradizioni e la cultura nella quale io sono cresciuto, nel mio acquario. Oggi c'è la cancellazione di tutto. Tutto è offensivo, tutto è offensivo. Oggi non puoi scherzare e ridere. Io sono cresciuto con i film di Abba Tantuono, Paolo Villaggio, Fantozzi. Sono cresciuto quando andavano in voga i film trash, quelli di Pierino, Il Colonnello, tutti quei film, ve lo ricordate, Alvaro Vitali, Lino Banfi, Il Colonnello in caserma, La Dottoressa, L'Infermiera, tutti quei film che oggi guai. Ma neanche nominarli, ma stai scherzando. Ecco, io sono cresciuto in quel mondo e tutti voi che mi state ascoltando, il canale principalmente è formato da persone da 65 anni in su. Oltre la metà sono da 65 anni in su. Io non ne ho 65, ne ho 49, però più o meno le generazioni sono cresciute così. Il ritorno di Elio e le storie tese con la comicità degli anni 80-90, la comicità era basata sul prendere in giro le minoranze. Eh sì, Elio e le storie tese, nella musica, i film di Abba Tantuono, per esempio, diceva di quelle cose, Abba Tantuono, verso le famose minoranze. Ma anche i film che io sto guardando in questi giorni su Alberto Sordi, mi sto guardando tutti i film di Alberto Sordi che trovo su YouTube, tutti. Quello che i film di Alberto Sordi, anni 50, 60, 70, erano politicamente scorrettissimi, dagli auguri figli maschi, all'atteggiamento patriarcale, l'atteggiamento verso le donne di quegli anni, era qualcosa di oggi assolutamente inaccettabile. Quindi il ritorno di Elio e le storie tese è basato su una comicità di un altro tempo. Oggi, voi l'avete visto, la comicità oggi non esiste neanche più, perché la comicità su cosa si basa? Il far ridere si basa sulla presa in giro di quello che dice qualcuno, o che cade, inciampa, i famosi film muti dell'inizio del secolo scorso. Erano basati su gente che cadeva, inciampava, gli arrivava una roba addosso. Erano basati su questo, sulla presa in giro degli altri. Oggi quella presa in giro non la puoi più fare. E quindi la comicità non ha più terreno dove coltivare. Allora vedete che Fiorello, la sua comicità è prendere in giro la Meloni e la Schlein. Perché sono i politici, li prendo in giro, ma non possono più prendere in giro e fare le battute. Il comico non può fare più la battuta oscena, la battuta sconcia, la battuta allusiva. Perché se tu fai una battuta allusiva, ah, quella ha detto, ah, ma questo è body di qui, body di là, bidi bi, body bi, bu, e questo è mobbing, e questo è pressing, e questa è la moviola. Cioè, ogni cosa che dici ormai è tacciabile di scorretto, scorretto. Se tu ridi di una battuta sei scorretto, se tu fai la battuta sei scorretto. Se uno inciampa e tu ridi sei scorrettissimo. Se tu ridi di una minoranza sei scorrettissimo. Voi dite, ma ridere e prendere in giro le persone è vietato dalla Costituzione? No, è vietato dal politicamente corretto. E lo chiamano il ritorno sgradito, quello di Elio e le storie tese, con parolacce, metafore sessuali, prese in giro dei luoghi comuni tra uomini e donne. Quindi molto puntavano proprio sui luoghi comuni tra uomini e donne, la presa in giro. Alcuni testi hanno fatto la storia della musica italiana, ma come sostiene la stampa non fanno più ridere oggi. Anzi, si prova un sottile imbarazzo nel riascoltare quello che cantavano e quello che dicevano Elio e le storie tese. Perché la nostra cultura è cambiata. Io credo in peggio. Anche l'umorismo è cambiato in peggio. Oggi l'umorismo è solo su Meloni e Schlein. Non puoi più ridere e fare una battuta su niente. Perché devi essere inclusivo, rispettoso, anche e soprattutto essendo ipocrita. Devi mentire. Davanti alla società devi farti vedere in un certo modo. Poi quando non sei in televisione, in radio o in pubblico dici le peggio cose. Perché la società non è che è cambiata. La società è solo diventata ipocrita. Fa finta di pensare in un altro modo. E' il far finta di pensare in un altro modo per compiacere la dittatura del politicamente corretto. E così sto leggendo alcune frasi delle musiche di Elio e le storie tese. Dove c'era l'orsetto che non si può dire. Compariva sul finale del geniale Vitello con i piedi di balsa. Dove due ragazzi, Giorgio e Piero, incrociarono in segno di reciproca stima. Quindi tutte le battute volgari e politicamente scorrette. Oggi se fai tornare insieme Elio e le storie tese, che cosa dicono? Parlano anche loro di Meloni e Schlein? Del patto di stabilità? Società triste. Forse è più giusta. Non nego che forse è più giusta, ma sicuramente è più triste. Arrivederci a tutti e grazie.